buongiorno anche a chi mi segue su youtube benvenuti nel mio canale per chi non mi conosce mi chiamo elisa sono un'operatrice olistica e il mio obiettivo è quello di connettere le persone con la propria anima andando a togliere blocchi traumi paure tutto ciò che ti impedisce di essere te stesse di avere una vita veramente felice la mia specializzazione sono le fiamme gemelle perché sono una fiamma gemella riunita però ovviamente anche per chi non è fiamma ed ha insofferenza sono disponibile a dare un aiuto siccome nella mia pagina facebook il diario delle fiamme gemelle nel mio gruppo facebook ho visto proprio una difficoltà nel nel comprendere quali ferite si hanno ciao donatella benvenuta oggi oggi e nei giorni a venire perché sapete che io vado un po periodi non più parlo del femminile in cui vi ho parlato dello sciampalla reiki a 2 periodi e questo sarà il periodo quindi delle cinque ferite che vedo proprio che c'è una difficoltà nell'andare a capire quale ferita sia quindi si inizierà questo percorso insieme sulle cinque ferite ciao donatella ciao quindi volevo iniziare con voi con la ferita del rifiuto perché con la ferita del rifiuto perché spesso viene confusa con la ferita dell'abbandono e si pensa un po che sia la stessa cosa però in realtà non è assolutamente la stessa cosa perché perché abbandonare qualcuno significa allontanarsi da questa persona per qualcos'altro o per qualcun altro mentre rifiutare qualcuno significa proprio respingerlo non volerlo accanto o volerlo escludere dalla propria vita quindi la persona che rifiuta quando ti parla usa l'espressione non voglio mentre la persona che abbandona usa il termine non posso quindi il rifiuto è una ferita molto molto profonda perché la persona che ne soffre si sente respinta in tutto il suo essere e soprattutto nel suo diritto di esistere e tra le cinque ferite è proprio la prima che si manifesta ed è presente nella vita di una persona molto molto presto quindi accade spesso che questo rifiuto avvenga da parte del genitore però non ha l'intenzione di respingere il bambino però essendo piccolino lui in realtà si sente rifiutato vuoi perché magari si ha un'osservazione non tanto carina oppure quando il genitore scoppia nell'urlo mitico perché è un po' esaurito però in quel momento in quei momenti il bambino si sente rifiutato e fin tanto che una ferita non è guarita è molto facile che si riattivi quindi poi nell'età adulta ciao Vania ciao Vali benvenute nell'età adulta quindi la persona che si sente rifiutata non è oggettiva interpreta gli eventi attraverso il filtro della sua ferita e si sente respinta in realtà anche quando non lo è quindi appena il bambino incomincia ciao Federica appena il bambino incomincia a sentirsi respinto che cosa fa? si mette la maschera del fuggitivo quindi il fuggitivo chi è? è una persona che dubita del proprio diritto di esistere e che non sembra essersi incarnata appieno quindi portare una maschera che cosa significa? significa non essere più se stessi quindi si adotta un atteggiamento differente elaborato negli anni in cui si è molto piccoli e perché? perché si pensa che questo atteggiamento ci possa proteggere quindi la prima reazione se ti senti rifiutata è proprio la fuga perché? perché da piccola hai proprio creato la maschera del fuggitivo e vivi in un mondo tutto tuo in un mondo in realtà immaginario e da piccola evidentemente eri una bambina molto buona un bambino molto buono tranquillo e che non causava assolutamente problemi perché? perché giocavi nel tuo mondo e quindi non facevi casino stavi in pratica nella tua bolla e il punto qual è? è che se non la guarisci poi continui con questa maschera e continui a stare nella tua bolla quindi ti crei un universo immaginario e oltretutto potevi essere anche un bambino che sfuggitava un sacco di metodi per scappare da casa e avevi un grande una grande voglia invece di andare a scuola perché? perché la scuola ti faceva scappare da casa però ovviamente anche lì poi ti sentivi rifiutato quindi altra cosa importante il fuggitivo non si attacca alle cose materiali perché? perché se tu ovviamente hai una casa hai un conto in banca hai un mutuo non puoi scappare quindi non ti attacchi alle cose materiali perché? perché altrimenti non puoi fuggire sei costretto a stare lì sei costretto a stare nella realtà oltretutto questo distacco sulle cose materiali può avere anche un risvolto sessuale quindi si possono avere anche disfunzioni sul piano sessuale perché? perché si crede che la sessualità interferisca con la spiritualità molte donne fuggitive pensano infatti che il sesso non sia qualcosa di di non è se può dire proprio di ma di spirituale proprio quindi che cosa succede? che per non fare l'amore per non avere rapporti molte donne finiscono con uomini che le allontanano sessualmente e quindi attraggono proprio delle situazioni anche in coppia in cui vengono respinte sul piano sessuale o si tagliano fuori da sole dalla propria sessualità altra cosa importante è che il fuggitivo si crede assolutamente uno zero assoluto senza alcun valore per questo cercherà in tutti i modi di essere perfetto quindi quelle persone che hanno la mania della perfezione evidentemente hanno avuto o hanno hanno il trauma del rifiuto perché? perché devono valorizzarsi agli occhi altrui e la parola nullità è potentissima nel loro vocabolario quando si parla di sé o degli altri e direi che per qua ci possiamo anche fermare anzi no una cosa importante vorrei aggiungerle poi qua chiudo altrimenti questo video è troppo lungo una cosa importante è che la persona che soffre del rifiuto è in continua ricerca di amore dal genitore dello stesso sesso quindi sia che sia la mamma o il papà biologico sia con persone proprio dello stesso sesso quindi pensa di essere un individuo che non è completo fino a che non avrà conquistato l'amore della mamma o del papà in base a che sesso sei tu ed è anche una persona molto sensibile e quindi alla minima osservazione che gli viene mossa lui si sente rispinto e sviluppa rancore spesso anche odio tanto è forte la sua sofferenza quindi io direi che per oggi ora sì che ci fermiamo qua perché è già troppo lungo questo video quindi se hai la ferita del rifiuto se ti sei riconosciuto riconosciuta in questo video mi scrivi per prendere un appuntamento il primo è gratuito per prendere un appuntamento per parlarne insieme per vedere qual è la metodologia più adatta a te per la guarigione mi scrivi su scusate su info.camminospirituale chiocciolayau.com in questo modo possiamo fare questo cammino insieme bene io vi mando un bacio grande mi raccomando condividi questo video aiutami a renderlo virale con tanti tanti commenti e con tante tante condivisioni questo video per chi mi segue su Instagram lo trovate su YouTube ciao Francesca ben arrivata lo trovate su YouTube e niente ragazzi questo è quanto per chi vuole vedere il mio blog www.camminospirituale.com vi mando un bacio grande al prossimo video ciao 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 anche a voi che mi seguite su YouTube al prossimo video anche per voi un abbraccio grande ciao ciao